Quando partiamo per una salita, proviamo a pensare. Possiamo situarne nel tempo e nello spazio all'inizio. La partenza coincide con il nostro arrivo all'attacco della via o con la nostra uscita dal rifugio per l'avvicinamento. Oppure partiamo allora che chiudiamo le nostre spalle la porta di casa per raggiungere le montagne. Potremmo anche pensare che la partenza avvenga alla lettura di un libro, alla vista di una foto, alla scorsa di una relazione. Nell'attimo in cui il desiderio per una via, una parete, una montagna comincia ad estarsi. Grazie. 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 Montagne e rocce colpisco ed eccono come apparenza, come visione. La montagna ha la potenza di un aspetto che improvvisamente ed inaspettatamente ci si para davanti, visibile dinanzi a noi, ma insieme evanescente e inafferrabile, mai data e mai doma, non basta averla già percorsa per averla. La montagna ha la potenza di un aspetto che improvvisamente ed inaspettatamente ci si fa. La montagna ha la potenza di un aspetto che improvvisamente ed inaspettatamente ci si fa. La montagna ha la potenza di un aspetto che improvvisamente ed inaspettatamente ci si fa. La montagna ha la potenza di un aspetto che improvvisamente ed inaspettatamente ci si fa. La montagna ha la potenza di un aspetto che improvvisamente ed inaspettatamente ci si fa. La montagna ha la potenza di un aspetto che provano adattamento che dov'ylicere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.